Salve ragazzi, mi trovo nel Brunei, sto facendo un girettino di notte e sono arrivato in un luogo proprio nel punto dove mi trovo io adesso, che ho una visuale bellissima, guardandoci attorno c'è una visuale bellissima, allora vi do una panoramica, guardate le piante, i colori, e siamo nel centro, ecco lì ci sono delle bancarelle, qui abbiamo un bellissimo orologio, lì abbiamo un barco, un altro bellissimo barco, zoomiamo, ecco come potete vedere il luogo è molto bello, e chiudiamo con questa inquadratura, alla prossima!